Ciao a tutti, coppia, capricorno, capricorno, in amore. Allora, questi due segni identici, diciamo, hanno numerosi punti in comune tra l'uomo e la donna. E' ciò che permette loro di capirsi e supportarsi, sia sul piano, diciamo, affettivo che anche sul piano passionale e sentimentale. Ci sono sempre l'uno per l'altro, tendono a essere leali e soprattutto sono determinate a costruire una relazione solida. Quando devono affrontare un problema, diciamo, si assumono le proprie responsabilità. Hanno una buona vita amorosa, preferiscono affrontare le difficoltà, diciamo, con sincerità e lealtà. Hanno una buona affinità anche di coppia, il rischio è che nel tempo trascurino un po' l'altra persona, essendo entrambi tendenti, ovviamente, a chiudersi in se stessi. E' comunque una coppia che sfida il tempo e sfida le difficoltà. Una coppia funzionale che può ottenere degli ottimi risultati. Per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, iscriviti al canale, iscriviti al nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!